allora io ci provo non sarà facile voglio mettere le mani avanti questo non sarà un video di calcio questo non sarà un video di opinioni sportive questa non sarà un video di calcio mercato o di tutto quello che riguarda il mondo dello sport in generale proprio perché siamo riusciti a fare breccia in un muro come quello sportivo ed entrare in un muro completamente diverso che può svagare da umanità politica storia perché quella che stiamo vivendo è storia a tutti gli effetti siamo all'interno di un evento che verrà riportato sui libri che verrà studiato a scuola che magari i nostri figli i nostri nipoti verranno a domandarci e ci chiederanno ma in quell'ottobre del 2019 che cosa è successo esattamente tra turchia e siria perché erdogan ha voluto fare certe cose perché l'italia gli stati uniti d'europa hanno reagito in un certo modo e noi da protagonisti indiretti della questione della faccenda proveremo a dare una nostra opinione cosa che non farò io perché uno non sono una persona adatta due sono molto ignorante nel complesso nel senso che sì certo sono informato su quello che ci sta accadendo e invito chiunque fare lo stesso io non spiegherò all'interno di questo video cosa sta accadendo perché ci sono tanti altri creatori di contenuti intanto per dirne uno il più bravo il più famoso più rinomato come shy di break in italy che dedicano intere rubriche e video documentari o comunque resoconti più dettagliati di quanto io possa fare io sono un semplice umile ragazzo che vuole parlare di calcio che si diverte si diletta ad affrontare argomenti relativi a questo sport ma quando accadono certe cose ecco che non dico che sia mio dovere parlarne ma ho piacere di provare a portare una mia opinione su quello che a tutti gli effetti poi è un agglomerato tra cultura e appunto divertimento a livello sportivo non ne ho parlato subito perché avevo bisogno di tempo avevo bisogno di giorni per cercare di fare un punto generale della questione per informarmi adeguatamente per cercare di capire determinate cose certo nella mia testa io una mia opinione ce l'ho ma mai come in questo caso credo che sia difficile andare a schierarsi sia complicato provare a dire fare cose brigare perché siamo lontani questa distanza un po ci limita non saremo mai in grado di capire che cosa effettivamente sta accadendo in quella striscia in quel lembo di terra che viene etichettato in questo momento come guerra a tutti gli effetti dove si sta combattendo dove si sta lottando dove ci sono bombardamenti dove ci sono morti di militari e di civili e addirittura non credo che saremo in grado di poter entrare a tutti gli effetti all'interno della mente di quelli che sono intanto i calciatori coinvolti nella faccenda ma ancora più nel dettaglio di tutti i popoli che sono coinvolti a livello di paesi proprio gli abitanti ora secondo me lo sport non deve mai cercare di cadere in questo vortice che rischia di portare via un po tutti i valori sappiamo bene che dei mirale coinvolto come in italia lo sono under e cialanoglu forse addirittura io se fossi un difuso della roma sarei ancora più arrabbiato perché under sul proprio profilo twitter ha postato una foto del gesto incriminato ok quel saluto proprio a dare supporto ad erdogan e alla sua offensiva militare con addosso alla maglia della roma bianchi con addosso alla maglia della turchia con addosso alla maglia della roma ecco se dei mirale avesse fatto un gesto del genere con la maglia della juve sarebbe stato ancora più grave io conoscendo la juve non credo che questa cosa verrà passata esattamente inosservata non passerà inosservata la eventus probabilmente ne sta discutendo ne ha già discusso ha già preso una decisione ci sarà una stata una linea comune avrà magari parlato con dei mirale avrà parlato con gli agenti con i social media manager con chiunque ha pubblicato durante quelle sessioni magari il giocatore stesso avrà informato il calciatore che o un determinato comportamento non va bene un determinato comportamento lo può fare sappiamo bene che c'è questa voce questo sentore che i calciatori siano stati obbligati ad esibire a confrontarsi a fare quel gesto dato che lo sappiamo bene la storia del cestista che gioca in nba ci racconta come non sono molto contenti di erdogan e il governo quando vengono smentiti o quando vengono etichettati come dittatori o come quando si combatte contro di loro per chi non lo sapesse questo cestista si è dichiarato contro erdogan e questo pensiva militare ormai da anni in realtà e addirittura per una trasferta a londra non ci è andato per paura di essere ucciso gli è stato proprio vietato perché poteva essere ucciso da spie turche mentre alloggiava londra o comunque erdogan ha scritto anzi praticamente i genitori di questo cestista hanno scritto una lettera a erdogan dicendo che si vergognavano di aver messo al mondo un figlio così che ha offeso la turchia e il suo leader questo non è bastato perché i genitori sono stati intimati comunque di essere stato privato di passaporto addirittura questo cestista in questo momento è apolide quindi capite bene che la questione va un po' al di là quindi è difficile andare a fare un'analisi anche perché veramente io a livello politico ne so poco cioè so quel tanto che basta per recarmi alle urne a votare quando vengo chiamato in causa da buon cittadino vado a capire chi ci governa che cosa ci vuole trasmettere o in quel momento di cosa può aver bisogno il paese io non ho neanche una mia ideologia politica ben definita vario molto in base alle esigenze e in base al periodo in base a chi c'è dall'altra parte quello che riescono a trasmettermi quindi questo sicuramente non è un video politico non sarà un video politico io però da tifoso juventino mi sono sentito un pochino preso in mezzo da questa storia che sicuramente non mi è piaciuta non mi è piaciuto vedere Demiral così carico perché questo discorso che i giocatori possono essere stati obbligati io posso anche crederci ma vedendo un po' le immagini Demiral mi sembra uno di quelli più a favore di tutto questo e anche l'aver ripostato costantemente sui social network questa predisposizione mi fa capire che magari Demiral in questa cosa ci crede davvero è consapevole e voglioso di dire al mondo intero io sto con Erdogan un po' come hanno fatto anche diversi tifosi sugli spalti ci sono i video che circolano in rete di questa cosa io da tifoso juventino invece mi sono sentito un pochino turbato da tutto ciò perché comunque si parla di umanità si parla di guerra si parla di morte si parla di distruzione però ripeto ancora una volta la distanza mi impedisce di avere una visione chiara di quello che sta avvenendo davvero io non so cosa passa nella testa di un turco non ne ho idea di cosa stanno provando tutte queste popolazioni coinvolte non lo so non lo so e non voglio assolutamente mettere bocca all'interno di qualcosa di così grande che va proprio fuori dalla mia quotidianità dal mio modo di pensare sicuramente la Juventus io lo dico fuori dai denti non è contenta di questa cosa e probabilmente proverà in un certo modo ad aggiustare la situazione non so se con una cessione del giocatore non so se con una recessione contrattuale non credo visto l'investimento fatto soltanto questa estate se con una decurtazione dello stipendio se verrà messo fuori rosa ma poi bisognerà vedere la reazione di Di Miral dall'altra parte perché ripeto magari lui ci crede davvero in tutte queste cose in queste manifestazioni in far vedere che lui è davvero d'accordo con questo bombardamento questi atteggiamenti bellici che da una settimana si susseguono in quello strato in quella zona del globo quindi è una situazione troppo delicata è una situazione troppo incomprensibile per noi italiani per noi che non siamo coinvolti noi da tifosi della Juve possiamo prendere una posizione sta spopolando l'hashtag Demiral out ora a me dispiace sarebbe anche tanto perdere Demiral perché ne ho parlato più volte credo che sia un calciatore anche abbastanza forte giovane, forte e penso che possa ritagliarsi uno spazio importante all'interno dell'eventus e soprattutto post infortunio di Giorgio Chiellini è anche vero che se dall'altra parte la Juve come società vuole far vedere come brand di essere superiore o comunque collegamenti zero, completamente staccata da tutta questa vicenda, da tutta questa situazione ecco che potrebbe tagliare i punti, tagliare i rapporti con il giocatore obbligarlo a cambiare aria nella finestra trasferimenti imminente di gennaio al pari di Mario Manzucic che è un altro separato in casa Emre Can è un altro che era un po' arrabbiato per la discussione della lista Champions lui ha origini turche però non è stato coinvolto direttamente perché comunque è un giocatore della Germania ma vedere tutti questi giocatori che all'interno del rettangolo verde durante un'esultanza vogliono dimostrare, far vedere, diffondere al mondo intero un gesto politico che a livello di contesto calcistico non c'entra assolutamente niente mi ha dato fastidio mi ha dato fastidio perché il calcio e la politica non si devono mischiare è difficile perché il calcio è politica perché magari è gestito da politici magari girano soldi che vengono riciclati all'interno della politica o da politici ma quando è così evidente, quando si impone, quando si vuole far vedere io credo che ognuno di noi abbia diritto a una propria idea e che la cosa più giusta in assoluto è questa qua ovviamente questo è il mio pensiero giusto o sbagliato che sia fatemi sapere un po' qui sotto nei commenti la vostra opinione anche se capisco che in realtà è qualcosa di difficile forse anche troppo complicato e troppo noioso per noi che siamo soltanto dei tifosi che vogliamo divertirci quando il pallone supera la linea è quando il nostro attaccante è contento è liberato di questo gesto che è il gol se poi l'esultanza dilaga, sfocia in certi atteggiamenti condivisibili oppure no ecco, io forse di questo mondo non voglio proprio più farne parte